TAC, radiografie e visite specialistiche anche dopo le 8 di sera. È così, tenendo aperti gli ambulatori e accesi i macchinari anche di notte, che la Regione Puglia confida di accorciare le liste di attesa. La novità, già sperimentata in Veneto, è contenuta in una bozza di accordo discussa ieri mattina dall'assessore alla salute Elena Gentile con i sindacati della Sanità. Questo straordinario notturno costerà alle casse della Regione qualcosa come 20 milioni di euro. Le prestazioni extra saranno effettuate dalle 20 alle 24 nei giorni feriali e dalle 8 alle 20 nei giorni festivi. La novità sarà sperimentata fino al 31 dicembre. Se darà buoni frutti, diventerà procedura ordinaria. I turni aggiuntivi riguarderanno 25 esami specialistici, visite cardiologiche ed oculistiche, mammografie, TAC a torace e addome, risonanze magnetiche, ecografie a capo e collo, ecodoppler, colonoscopie ed elettrocardiogrammi. Tutte le prestazioni oltre le 20, cioè fuori dall'orario ordinario di servizio, saranno effettuate solo dai dipendenti volontari, che riceveranno in busta paga un extra di 100 euro lordi più il dovuto per le prestazioni effettuate. Soddisfatti i sindacati, ad eccezione del AROI EMAC, il segretario regionale Antonio Mendola non ha firmato l'accordo perché si rischia di drogare ulteriormente un sistema che molti ormai definiscono esamificio, ha dichiarato. Preoccupazione in parte condivisa dal direttore di radiodiagnostica universitaria del Policlinico, il professor Giuseppe Angelelli, che ammonisce, attenti alle prescrizioni facili.